Tutto è nato da una sua esternazione al comitato cantonale. Se Marina Masoni vuole il nostro appoggio per la riforma dello Stato, si distanzi dalla Lega. Le repliche non si sono fatte attendere. Lui, Luigi Pedrazzini, presidente dei Popolari Democratici, mette i puntini su lei. Spiega il suo pensiero nella quiete di Cimalmotto, in Alta Valle Maggia, sui prati che si estendono davanti alla sua casa di vacanza, in un'intervista a ruota libera, senza schivare l'oliva, domani sera alle 20.30. Grazie.